Mi chiamo Gabri Costa, in Mortal Kombat 11 vi farò vedere altri bozzetti della storia, questa volta vi farò vedere NPC, ce li ho completi tutti e 15, godiamoceli per bene con calma. Possiamo iniziare. C'è la donna del dragone nero, poi questo è l'uomo del dragone nero, quando io dico il dragone nero lo comanda Kano. Poi ci sono i monaci morti, che schifo. Poi abbiamo anche gli dei anziani, questo invece è Caron, quello che vediamo nella modalità storia. Poi c'è il soldato di Kotal, abbiamo anche la soldatessa di Kotal, poi c'è la maschera da soldato, poi abbiamo Liu Kang, il dio del fuoco, ma ricordatevi che Liu Kang è il dio del fuoco, si può usarlo nel dodicesimo capitolo della modalità storia di Mortal Kombat 11, e poi è lui che distrugge Kronika. Poi abbiamo i soldati del regno occulto. Certo, vedere un soldato del regno occulto fa veramente schifo, ci tocca combatterlo. Questa è Shiva, la regina degli Shokan, che non mi stanno mai a dirlo. Poi c'è anche la donna Shokan, e l'uomo Shokan, e questo invece è l'uomo Tarkatan. Bene, per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace come sempre, parola di Gabriel Osta. Se il video vi è piaciuto potete anche condividerlo e iscrivervi al nostro canale. E poi ricordatevi che siete i miei follower. Ciao!